Bene, grazie naturalmente all'organizzazione, Giorgio ha ringraziato molte persone e a questo punto io ringrazio lui, diciamo gli altri, non è necessario ma è ovvio che siamo qui grazie a questo sforzo e all'entusiasmo delle persone che rendono ormai da più di vent'anni attivo e vivo il Darwin Day a Milano. Benissimo, quindi, e grazie naturalmente a Marco. Il tema è un tema difficile, vi propongo una frase in un dizionario di psicologia che dice della coscienza, nulla che valga la pena di essere citato, menzionato, ricordato sulla coscienza vale la pena di essere letto. In realtà di cose, vediamo come funziona l'avanzamento, ho l'impressione che non funzioni. Devi accenderlo. Devo accenderlo, forse l'accento io lo spegno. Benissimo. In realtà di cose sulla coscienza, prima di quel 1989, ne erano state scritte, diverse, che aveva senso leggere, e io credo che abbia senso leggere questo articolo di Tom Nagel, che è un filosofo, ma che si pone molto vicino a noi biologi naturalisti e evoluzionisti, nel senso che lui dice cosa si prova ad essere un pipistrello. Ma io voglio rendere la sua domanda ancora più semplice, ed è la domanda che a voi tutti chiedo di porvi. Si prova qualcosa ad essere un sasso? Si prova qualcosa ad essere una bottiglia d'acqua? Si prova qualcosa ad essere questo telecomando, un verme, piuttosto che un gatto? Ecco, laddove voi rispondete si prova qualcosa ad A, lì abbiamo la coscienza, nella sua forma più essenziale. Quindi se dal vostro punto di vista si prova qualcosa ad essere un termostato, diciamo che lì è la coscienza. Se dal vostro punto di vista è quel gatto il primo di quella serie ad avere, a provare qualcosa ad essere, lì abbiamo la coscienza. Quindi ognuno di noi può avere la sua idea di quando si comincia a provare qualcosa. E quindi in questo senso io voglio andare su quella che è la forma più elementare di coscienza, quindi non mi interessa parlare delle forme di coscienza, diciamo, che hanno a che fare con le funzioni cognitive elevate, con le riflessioni profonde, con il senso di sé, con l'autocoscienza, con sapere chi sono io, cosa farò. Io voglio andare in fondo a quello che lo stesso Charles Darwin diceva, riferendosi ai lombrichi, vorrei capire, vorrei capire, diceva, se agiscano in modo cosciente. E da questo punto di vista in un certo senso anche Alan Turing ci diceva, tutto quello che voglio, io aggiungo, capire, è un cervello mediore. Quindi andando a dividere questi due parti della coscienza potremmo dire che c'è quella che è la coscienza psicologica, tutte le funzioni, diciamo, superiori, se vogliamo chiamarle così, che sono quelle che, caratteristiche, probabilmente, di noi esseri umani, ma poi c'è una forma più basilare, quella che è stata chiamata, quella che si chiama, che i filosofi chiamano coscienza fenomenica. Cosa si prova ad essere? Cosa significa sentire la puntura di uno spillo? Cosa significa vedere il nero della notte? La coscienza fenomenica è qualcosa di molto più banale, basilare, no, se volete, meno nobile, ma più difficile. Questo, tant'è, questo viene formalizzato da David Chalmers, che ci sottolinea l'esistenza dei cosiddetti problemi facili della coscienza e del problema difficile. Cos'è il problema difficile della coscienza? È capire come l'attività neurochimica di un cervello, l'attività neurochimica, neurofisiologica, elettrochimica di un sistema nervoso, si trasforma in pensiero cosciente. Noi possiamo descrivere tutte le catene di neuroni che interagiscono l'uno con l'altro, ma non sappiamo cosa vuol dire. Percepire qualcosa. Queste esperienze, che probabilmente ha forse anche una cavalletta, che certamente ho io, che immagino abbia il mio gatto, le chiamiamo qualia. Ci sono molte domande legate a quello che è il problema difficile, naturalmente il problema facile non è facile, David Chalmers sa benissimo che non è facile la definizione di come funziona il cervello, David Chalmers ci dice, ci metteremo forse altri 100, 200, 300 anni, ma è studiabile con i metodi della ricerca cognitiva, neurofisiologica, e metodi di imaging, ma ce la facciamo, sono studiabili. Quello che è il problema, appunto, è quello che invece si chiama problema difficile, che era stato ben delineato da Leibniz, il quale dice, immaginiamo che un sistema pensante, un cervello, sia come un mulino, enorme, un gigantesco mulino pieno di ingranaggi, noi possiamo entrare in questo mulino, vedere questi migliaia, centinaia di migliaia di ingranaggi che interagiscono tra loro, ma questo non ci porta a capire che cosa significhi sentire qualcosa, oggi diremo avere dei qualia. Lo stesso lo esprime Thomas Henry Huxley, che ci dice, capire come, grande mastino di Darwin, capire come un'irritazione di un nervo produco una sensazione, è come capire come esca il genio sfregando la lampada di Aladino. E quindi possiamo dire che sostanzialmente viene riconosciuto quello che è indicato come gap esplicativo. Da una parte, diciamo, qui li ho collocati in alto, ma avrei potuto collocarlo in basso, è la percezione esperita, i qualia, sentire la puntura dello spillo, che non esiste nessun neurofisiologo che è in grado di dirvi come si fa sì che si percepisca la puntura di uno spillo per quanti neuroni vi descriva, e tutto il resto sotto che è il dominio delle scienze cognitive, non facile ovviamente, ma al quale con la ricerca, con la ricerca, diciamo, biologica, scientifica, noi arriviamo, o diciamo, con le scienze cognitive. Quindi in qualche modo è come se chi ci, in qualche modo cerca di spiegarci come si arriva alla coscienza, a partire dai neuroni, è come se presentasse una sorta di magia a cui gli studenti possono chiedere, facci vedere nuovamente questa magia. Allora, lo studio del cervello, diciamo, della coscienza in un certo senso è stato negletto per molti anni tra coloro che si occupano di scienze cognitive, in realtà le scienze cognitive sono nate dopo, ma diciamo di neurofisiologia. Una svolta viene data da Francis Crick, già premio Nobel per la struttura del DNA, che con il suo giovane allievo, Christophe Koch, decine di andare alla ricerca dei cosiddetti correlati neuroanali o neurali della coscienza, quelle attività minime che in qualche modo possono essere alla base di una percezione cosciente anche estremamente semplice. Hanno dato molto con questo approccio, ma siamo ancora al problema facile. Parlando a questo punto della coscienza intesa come la percezione esperita, comiquaglia, quando il sentire dolore, piacere, odio, amore, la puntura di uno spillo, lo stesso Thomas Henry Huxley crea il termine epifenomeno per dire che forse la coscienza non serve a niente. È come forse la mosca cocchiera che sale sul sedere di un cavallo, sono sei cavalli a portare la carrozza in cima alla montagna, quando arriva in cima alla montagna la mosca cocchiera dice vedete che vi ho portato in cima alla montagna. Quindi forse la nostra coscienza è un epifenomeno che non serve a nulla o forse, come dice il burattinaio di essere John Malkovich, è anche una dannatissima maledizione che si fa pure soffrire. E allora quindi la conoscenza è un epifenomeno, lo esprime, come diceva Thomas Henry Huxley, che dice la coscienza potrebbe essere come il fischio della locomotiva, non ha nessuna funzione, non serve a far muovere la locomotiva, è qualcosa in più, il mio sentire dolore non ha un significato. Il concetto che ha espresso in realtà William James, non la pensava così, però in qualche modo è espresso nelle sue parole, le gambe si muovono quando vede un orso, scappo, il cuore batte, da ciò nasce la paura. E di nuovo, a rari, storico, contemporaneo, la coscienza è il sottoprodotto biologicamente inutile di processi cerebrali. è un inquinante mentale, non fa nulla, è semplicemente lì. E allora a questo punto, se così fosse, vorrebbe dire che noi abbiamo un substrato di attività neuronale, uno stimolo, una risposta, stimolo, elaborazione, risposta e quant'altro, che determina un fenotipo, la selezione naturale agisce su ciò che i neuroni ci portano a fare, se la coscienza però è un epifenomeno, questo epifenomeno che magari è parallelo, perfettamente coincidente con l'attività neurale, ma non è sottoposta alla selezione naturale. Quindi questo nel caso in cui la coscienza fosse solo un epifenomeno. Ma, di fatto, noi sappiamo che questi qualia, queste sensazioni positive, negative, piacevoli, spiacevoli, che noi proviamo, sono allineati con risposte comportamentali che sono funzionali alla nostra sopravvivenza e alla nostra riproduzione. Allora, se la coscienza fosse veramente emersa come un epifenomeno, immaginiamo a questo punto un verme, in cui compare una sensazione, queste sensazioni non sarebbero allineate con comportamenti che sono funzionali alla sopravvivenza e alla riproduzione, cioè alla fitness. In qualche modo, Toto, il mio gatto, ha sensazioni che sono evidentemente, almeno io immagino che le abbia, allineate con risposte che sono funzionali alla sua sopravvivenza e alla sua riproduzione. L'argomento non l'ho inventato io, i grandi del passato pensavo di averlo inventato io, devo dirvi, mentre ci lavoravo poi naturalmente trovo che James e Spencer ci avevano già pensato. Qualcuno poi l'ha contestato, però diciamo che a questo punto noi potremmo proporre questa immagine. Quindi la coscienza è qualcosa che emerge dall'attività neurale, ma se la coscienza è allineata alle risposte comportamentali, si deve in qualche modo, in un modo, in qualche modo determinare una risposta fenotipica. E a quel punto la selezione naturale provvederà ad allineare, ma se volete anche a dare maggiore forma ai quali, a farli diventare positivi o negativi. Quindi noi potremmo avere, immaginare un sistema di questo tipo, in cui la coscienza comunque è qualcosa che ha potere causale, può determinare una causa, può causare comportamento, quindi di nuovo rientra nell'ambito di quelli che consideriamo dei fenomeni di tipo fisico. Oppure coscienza e attività neurale sono la stessa cosa. Quindi di nuovo la selezione naturale può agire e portare all'allineamento di questi cosiddetti quali, a delle nostre sensazioni, con delle risposte funzionali alla nostra sopravvivenza e alla nostra riproduzione. E quindi come immagino che si sia evoluta la coscienza? Eh, io immagino, ma vabbè, io al sasso non attribuirai nessun quali, al sasso dal mio punto di vista non sente niente. Non so dirvi cosa sento un nematode, ma immagino quello potrebbe essere il verme da cui tutti discendiamo, un verme che collochiamo diciamo un miliardo di anni fa, quel verme, in quel verme probabilmente emergevano dei quali, a sensazioni indefinite, un fastidio, un rumore, un qualcosa di, ma poi la selezione ha qualcosa di non funzionale, quindi un pennacchio, no? Qualcosa a chi non serve, ma a questo punto la selezione naturale interviene e allinea i quali. Quindi, là questo epifenomeno arriva ad avere una funzione. E a questo punto questa funzione, no? Che diventa una funzione, diciamo, fondamentale, a questa funzione si aggiunge un'altra cosa, che è l'intenzionalità. E poi arriviamo su questo ulteriormente, arriviamo poi alla parola. Il concetto di intenzionalità, io credo che il mio gatto Toto lo esprima molto bene, vedete i suoi occhi, lui non ha solo sentito, non ha solo visto l'asino, ma lui ha anche dedicato attenzione all'asino. Quindi i due mattoni della coscienza sono i qualia, quel verme sente qualcosa, l'intenzionalità, quel verme dedica attenzione a qualcosa. E quindi in qualche modo possiamo di nuovo semplificare quello che immagino possa essere stato un processo di evoluzione della coscienza, da qualia maldefiniti, non allineati, non definibili, neanche sappiamo come potevano essere i qualia che emergevano nel verme da cui discendiamo, si arriva a qualia che si definiscono, che prendono un contenuto di piacevole o spiacevole, gradevole o sgradevole, questi qualia che sono definiti si allineano alle risposte, emerge l'intenzionalità e su qualia e intenzionalità nasce in qualche modo la parola. non sono io un linguista, non posso occuparmene, ma immagino che la gran con, tutte le cose che succedono con la parola, e sto pensando per esempio al film Il grande e le boschi, possono avere sotto qualia intenzionalità e quindi parole. Qui arriviamo al tema, diciamo che non potevo non trattare, che è il tema del libro, il libro, siamo ancora a una citazione cinematografica, Ex Machina, film meraviglioso, in cui il giovane brillante informatico o comunque insomma riesce a sviluppare, non il giovane in realtà, quello più anziano insomma, che riesce a sviluppare una macchina che apparentemente si innamora di Caleb, un robot, e Caleb contesta il fatto che la macchina sia stata, questo robot sia stato programmato per innamorarsi di lui, e Nathan risponde, ma anche tu sei programmato? Lui risponde, nessuno mi ha programmato, e Nathan risponde, ma certo se sei programmato, da natura, educazione, entrambe, una conseguenza di stimoli esterni che non hai nemmeno registrato, ma hanno registrato te. Quindi, in questo senso, questo è un film che in qualche modo va a mettere in discussione del concetto di libero arbitrio, il concetto che è stato messo in discussione da molti pensatori, quindi il baron del Dolbach, puoi dire di sentirti libero, questa è un'illusione, può essere paragonata a quella della bosca della favola, l'uomo che si crede libero è una mosca, quindi la favola della mosca cucchiera, o Bertrand Russell, il primo dogma al quale sono arrivato a non credere è quello del libero arbitrio, o Einstein, tutti danziamo su una melodia misteriosa intonata in lontananza da un pisferaio invisibile. Questo da un punto di vista, ovviamente, se adattiamo a una visione fisicalista o materialista del mondo, in un certo senso siamo portati a questa visione che riguarda il libero arbitrio. Nella storia, diciamo, dello studio, se volete, del libero arbitrio, della coscienza o della neurofisiologia, è un esperimento che ha fatto storia, molto contestato, devo dire, è l'esperimento di Libé, che sostanzialmente propone a dei soggetti di compiere un atto molto semplice, piegare un polso, registra l'inizio dell'atto con un sistema di elettromiografia, in parallelo i soggetti sono sotto elettroencefalogramma, i soggetti hanno un sistema abbastanza semplice ma sofisticato al contempo per cui possono dire quando percepiscono la voglia di fare quel movimento, quindi Libé dice ai soggetti muovete il braccio quando volete, non vi dico io quando muoverlo e sostanzialmente loro in qualche modo indicano il momento in cui iniziano a compiere il movimento 300 millisecondi dopo rispetto a quando nel cervello sono successe altre cose, ci sono altre attività. Quindi in qualche modo Libé fa un esperimento che tende a dire l'attività neuronale genera il movimento il libero arbitrio la sensazione di essere liberi di aver deciso di muovere la mano arriva dopo. Dicevo l'esperimento è stato contestato ma d'altra parte è replicato con altre metodologie tra cui la risonanza magnetica funzionale e ovviamente è passibile di molte interpretazioni però devo dire che molti studi in risonanza magnetica funzionale indicano comunque che attività che sono diciamo attività neuronali non percepite precedono il momento in cui il soggetto effettivamente ritiene di essere all'atto di decidere di compiere un gesto semplice. In questo senso diciamo può essere inquietante il fatto che noi possiamo indirizzare una decisione in realtà è una decisione molto semplice quale mano usare per schiacciare un bottone attraverso una stimolazione magnetica transcranica quindi al soggetto in particolare se lo facciamo sull'emisfero sinistro diamo una stimolazione magnetica e la scelta della mano con cui compiere una determinata azione che poi appunto azione semplice pigiare un bottone viene profondamente influenzata da questo stifo di stimolo magnetico. Tutto questo ha portato al concetto dell'illusione del libero arbitrio della volontà cosciente Daniel Wegener persona straordinaria tra l'altro era stato operato per la rimozione di un tumore cerebrale che gli aveva fatto perdere la possibilità di realmente controllare uno dei suoi archi Arti svilupperà una sclesorilaterale amiotrofica e a un certo punto quando i suoi allievi saranno a casa sua per scrivere i paper mentre lui sarà vicino alla fase terminale avrebbe affermato come sono felice e mi sembra di essere in festa siete sempre qui con me questa persona straordinaria possiamo essere d'accordo con lui o no meno propone che appunto tutto ciò che ci porta a pensare di aver deciso qualcosa di fare qualcosa è qualcosa di parallelo non direttamente la causa dell'azione che andiamo a compiere allora il libero arbitrio quindi come illusione io devo dire che è una definizione che ho trovato molto bella è quella di Roberto Linas che ci dice il libero arbitrio è la nostra possibilità di seguire la tirannia dei nostri stessi neuroni non abbiamo scelta resistendo alla tirannia dei neuroni delle altre persone io credo che questo sia un messaggio bellissimo in fondo io forse sono determinato dai miei neuroni quelli che sono qui dentro voi dai vostri ma la nostra speranza è che siano i miei neuroni ognuno di voi con i suoi neuroni a dirigere il suo comportamento se poi loro sono dei tiranni poco importa e qui viene quello che secondo me è il messaggio la cultura è ciò che ci avvicina alla libertà la cultura nel senso più ampio del termine che è leggere dei libri o andare in un bosco o viaggiare la cultura è ciò che ci avvicina a questo sintono è ciò che ci rende in grado di resistere alla tirannia dei neuroni degli altri naturalmente parlando di coscienza non si può arrivare a chiedersi chi possa avere la coscienza penso che abbiate compreso che io attribuisco la coscienza al mio gatto Toto lì aveva tre mesi non so cosa dire di un nematodio di un verme e il quesito ovviamente se un sistema di intelligenza artificiale o un computer possa avere coscienza ricordiamoci che i mattoni della coscienza sono i quali a sensazioni semplici sentire la puntura di uno spillo parti da lì quali sono i mattoni noi costruiamo cose enormi con la nostra coscienza che è diciamo il Duomo di Milano ma se non abbiamo i mattoni i mattoni che sono i quali alla coscienza non c'è e quindi come diceva parafrasando George Clooney niente qualia niente coscienza ma allora abbiamo bisogno di una teoria della coscienza ce ne sono almeno 20 30 io vi propongo solo la Integrated Information Theory di Giulio Tononi un italiano che ora è a Madison Wisconsin sostanzialmente Tononi propone che la coscienza cioè la percezione esperita e qualia pensate veramente a qualcosa di basilare all'inizio emerga laddove un sistema gestisca in modo integrato molta informazione cosa vuol dire in modo integrato vuol dire che gli elementi del sistema che siano neuroni che siano porte logiche devono avere un certo potere causale l'uno sull'altro la cosa bella della proposta di Tononi è che prescinde dal substrato sistema nervoso di Homo sapiens quindi la possiamo applicare in realtà non la si può veramente applicare ma può essere applicata a qualunque sistema dove abbiamo ipotetici neuroni o porte logiche e quindi la sua proposta è che la coscienza emerga laddove il livello di elaborazione e gestione di informazione integrata supera un certo grado ed ha anche un numero quantificato un parametro che è phi quindi Tononi genera questa phi mi dicono che va in giro con una cravattina stile americano dove il fermo a cravatta è proprio una phi quindi probabilmente lui ci crede molto però appunto è interessante perché a questo punto io non ho bisogno a pensare lobby prefrontali parietali tutto quello che noi abbiamo un po' posso chiedermi chi possa avere coscienza questo è proprio tra l'altro uno schema proposto dallo stesso Tononi ci ricorda tra l'altro che coscienza e intelligenza dovremmo parlare sette ore di finire intelligenza permettetemi la semplificazione non sono la stessa cosa intelligenza è sapere elaborare e fare cose ma non necessariamente il sistema intelligente è cosciente di quello che fa percepisce quello che fa coscienza è un'altra cosa e sostanzialmente quindi nella visione di Tononi questo phi potrebbe partire da livelli bassi poniamo da una medusa per arrivare ai livelli più alti probabilmente in Homo sapiens lì ho collocato lì Margulis che è stata una nostra amica e la cosa inquietante è che Tononi suggerisce che gli organoidi cerebrali potrebbero essere poco intelligenti ma potrebbero sviluppare forme di percezione di coscienza non sappiamo quali non sappiamo come mentre nella visione di Tononi un sistema l'attuale articolatura von Neumann dei computer degli elaboratori elettronici attuali o i sistemi di intelligenza artificiale non garantiscono informazione integrata quindi la visione di Tononi è quelle macchine lì o i sistemi di intelligenza artificiale in realtà non hanno coscienza sono intelligenti ma non sentono e stiamo arrivando alla conclusione l'ultimo argomento è quello di John Searle l'argomento della stanza cinese John Searle dice io sono all'interno di una stanza in questa stanza io ricevo dei simboli in cinese che io non conosco sappiamo sono delle domande ma lui non lo sa due tre quattro sette simboli in cinese ho un libro di istruzioni scritto in inglese lungo 300 pagine quindi mi entrano dei simboli e io do delle risposte sulla base di queste istruzioni rispondo in uscita do delle risposte potenzialmente potrei superare il cosiddetto test di Turing in realtà io non ho capito niente non so il cinese non so che cosa ha fatto quindi Searle ci dice il computer per quanto ne so lavora così ha poi qualcuno me lo contesta Searle parla di sintassi comunque diciamo un algoritmo delle regole ma non ha una semantica cioè non ha la capacità di capire di sentire cosa sta dicendo ma perché un sistema di intelligenza artificiale non dovrebbe avere questa capacità e io ritorno alla prospettiva del Verne la nostra parola si è evoluta su un sostrato diciamo di un miliardo di anni di evoluzione dove abbiamo avuto qualia dove abbiamo avuto intenzionalità e dove la somma di qualia e intenzionalità su questa somma di qualia e intenzionalità è nata la parola la parola cane è per noi un'emozione che contiene la storia della nostra vita e la storia delle vite precedenti quando dico cane io sto esprimendo un qualia e la mia intenzionalità io sento le parole le parole sono venute dopo chat GPT viene alimentato semplicemente di parole non c'è un processo precedente che l'ha portato ad avere dei qualia delle sensazioni delle percezioni esperite quindi io devo dire che sono d'accordo con Searle in questo momento non ritengo che le macchine o che i sistemi di intelligenza artificiale abbiano una percezione esperita abbiano qualia ma ovviamente se ha ragione i tononi dipende dalla struttura che noi diamo alle reti neurali o ai sistemi diciamo agli elaboratori elettronici quindi non è detto quindi abbiamo detto molte cose quindi la coscienza e qualia nella mia visione non sono un fenomeno sono stati esposti all'uaio della selezione naturale la coscienza si è evoluta a partire da qualia emersi in modo casuale in organismi semplici la coscienza nasce senza una funzione viene poi cooptata i quali si allineano è verosimile che il libero arbitrio sia un'illusione non lo so ognuno di voi la può pensare come un uomo vuole la nostra coscienza è il risultato di milioni di anni di evoluzione le parole vengono dopo poi molte cose non le ho trattate magari arriveranno in discussione ringrazio molte persone con cui ho discusso soprattutto voi perché io non ho mai tenuto un seminario né una lezione sulla coscienza quindi questo è un esperimento quindi parlato con molte persone abbiamo un gigante a Milano della coscienza che Marcello Massimini è veramente uno dei dieci più grandi studiosi al mondo di coscienza avrebbe più degnamente forse dovuto essere qui lui è divertente l'incoraggiamento di mia figlia quando citavo Thomas Henry Huxley che faceva i suoi seminari ovviamente abbraccio e dico certo potrei fare anch'io come Thomas Henry Huxley e lei mi dice sì papà ma permettimelo tu mica sei Thomas Henry Huxley e con questo direi che posso finire grazie a tutti davvero grazie a tutti grazie a tutti